Per Spazio Cultura accendiamo il riflettore su Luigi Pio Carmina. Bene, conosciamolo da vicino. Che cosa fai nella vita Luigi? Buongiorno a tutti. Studio lettere moderne. Collaboro con alcune associazioni studentesche, associazioni anche umanitarie, che si occupano comunque del sociale e del territorio. Tu hai scritto un romanzo. Perché nasce la voglia di scrivere un romanzo? La voglia, l'obiettivo è quello di comunicare le proprie sensazioni e tutto ciò che comunque ti donano anche gli altri. Sia come punto emozioni o anche valori, dialoghi vari che uno può incontrare anche in strada. Da qui nasce proprio il racconto underground. Sono racconti o un romanzo? Allora, è un romanzo ed è suddiviso in vari episodi vissuti dal protagonista all'interno di una stazione metropolitana. Dove all'interno incontrava varie persone, vari personaggi di transito. E appunto, essendo vari episodi, ho voluto chiamare racconti underground. Underground dal fatto che appunto si trova sottoterra. Sia per quanto riguarda l'aspetto dello stile di vita underground e anche per utilizzare una parola inglese per embatizzare comunque l'utilizzo di inglesismi nella nostra lingua. Ma c'è un filo conduttore. Qual è? Sì, allora, il filo conduttore è soprattutto la comunicazione, l'amicizia con il capo stazione Ryuk e l'amore che prova per una ragazza che si trasferisce anche lei all'interno della metropolitana per vivere con lui. Scusami, Luigi crede nell'amore? Sì, credo molto nell'amore e nell'amicizia. Ma Luigi è il protagonista di questo racconto. Ma sei tu? Ha niente a che fare con te? Allora, ha molto a che fare con me. È la trasposizione di parte del mio animo. Vuoi leggerci qualcosa? Sì, volentieri. Giorno 21, anniversario. Entro nella guardiola dove Ryuk intende sistemare le scatolette di tonno e sgombro. Io guardando il calendario. Quanti ne abbiamo oggi? Ryuk prende la pipa e la porta alla bocca ancora spenta. Io Non l'avevo ancora vista. Ryuk Quando mi si palla seriamente la uso, anche se è spenta. Dal tonno che hai sembra che tu debba dimmi una cosa importante. Io Lo è E mi hai sentito parlare del giudice ragazzino? Ryuk No, perché? Io Le notizie importanti e i fatti salienti di uno stato rimangono sepolte nel luogo dove nascono. Questa è disinformazione. Ryuk Mi spiace. Hai detto giudice, quindi immagino c'entri qualcosa alla mafia. Io Indovinato Prima di essere un giudice era un giovane Che aveva ideali che il giorno d'oggi si sono persi. Era di Canigatì, un paese in provincia di Agrigento. Lo conosceva anche mia madre. Tutti lo stimavano per l'aiuto che dava al prossimo. Credeva in quello che faceva. Per lui il lavoro era una missione. Sapeva di dover svolgere quel compito al meglio delle sue possibilità. E' andato contro quella che per parte del popolo medionale è un'istituzione. Tutti accettano in silenzio e quando qualcuno si oppone a questa corrente di pensiero fa una brutta fine. Come del resto tutti gli altri giudici come ad esempio Saetta, Falcone e Borsellino. Per temiare con i polizietti e tutte le persone oneste. Il magistrato di cui ti parlavo è stato ucciso da alcuni sicari. Vendri andava a lavoro nella strada di collega Agrigento a Caltanissetta. Ryuk E' votando chi è colluso con la mafia che le persone acconsentano ad essere sottomessi. Io quando puoi informati meglio e meglio da ciò che ti ho detto.